Avellino sbarca all'Eurochocolate ed è protagonista con le sue straordinarie eccellenze nella vetrina internazionale di Perugia. Le nocciole, i tre vini Doc G, i sapori e i profumi locali sono stati esposti nello stand dedicato al Capolugo Irpino, una missione speciale affidata al Vice Sindaco Laura Nargi. Siamo qui ad Eurochocolate per promuovere le nostre eccellenze e presentare l'evento considerato ad Avellino dal 9 al 14 febbraio. Come assessore al turismo sono molto orgogliosa di presentare la nostra città, le nostre eccellenze, i nostri provventori a tutta l'Italia e ai tanti stranieri che stanno affollando già in queste prime ore le sale della manifestazione. Lo stand di Avellino è stato visitato tra gli altri dal presidente di Eurochocolate all'architetto Eugenio Guarducci, una tappa prestigiosa nell'ambito di un evento di assoluto richiamo che fa da preludio all'importante appuntamento di febbraio dal 9 al 14 quando sarà Avellino ad ospitare Eurochocolate. Avellino è la terza provincia d'Italia per produzione di cioccolato, nessuno lo sapeva forse, ma soprattutto è parte della nocciola, la nocciola di Avellino è una delle più pregiate in Italia. Questo è uno dei frutti che connota questo territorio.